Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato al mio dorso i fragellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? O Dio, nella Tua grande bontà rispondimi. Per Te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi devora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. O Dio, nella Tua grande bontà rispondimi. Mi sento venir meno. Mi aspettavo compassione, ma in vano. Consolatori, ma non ne ho trovati. Mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete, mi hanno dato aceto. O Dio, nella Tua grande bontà rispondimi. Loderò il nome di Dio con un canto, lo magnificherò con un ringraziamento. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i Suoi che sono prigionieri. O Dio, nella Tua grande bontà rispondimi. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giude Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento, cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose «Andate in città, da un tale, e ditegli «Il Maestro dice «Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te, con i miei discepoli».» I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà». Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. «Ma guai a quell'uomo, dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose «Tu l'hai detto».